Nonostante l'assenza dei centrali con una formazione rimaneggiata, Roberto Piazza e la sua Allianz Milano riesce a trovare i tre punti pesantissimi a Ravenna. Ancora una vittoria, nove punti in classifica, ma un successo firmato, Nimer Abdelazese, dieci ace, quasi vicino al record storico in Superliga. Nimer, una grande spinta l'hai data a questa vittoria importantissima per Milano. Sì, sono contento di questa cosa, però la cosa che sono veramente contento è che, sai, sappiamo, siamo un po' in difficoltà con le fortuni che abbiamo e se vinci così con un finto centrale che non è centrale come Clevno e Gironi, è bello vincere, è ancora più bello vincere, penso. Speriamo che uno dei centrali torna veloce, però finché dobbiamo giocare così, giochiamo così e speriamo bene. E' la vina che vi ha messo in difficoltà, soprattutto nel primo set, poi siete riusciti a prendere le misure grazie proprio a quel secondo partito con Ancora Ace, perché quattro hanno i fatti nel primo parziale. Sì, questo ha aiutato, però devo dire che anche senza Ace ci abbiamo messo sotto pressione, sì, con la battuta, però anche a muro difesa siamo andati bene, anche per esempio Trevor, ammurato come centrale, ha fatto veramente una bella partita, allora sono contento di questa partita. La cosa che emerge è che è una formazione dove tutti sono al servizio di tutti. Sì, però dobbiamo perché non abbiamo più giocatori, poi devono essere italiani in campo, allora questa sì, è difficile di trovare uno che possiamo prendere per la squadra, però dai, siamo una bella squadra, se riusciamo anche a vincere così, continuiamo così.